Eccoci ragazzi e bentornati sul mio canale! Continuiamo Lego Harry Potter anni 5 e 7. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Dobbiamo cercare quindi di prendere i ricordi del prof. Lumacorno. Qui vediamo un po'. Ecco, la quarta missione. Come vedete c'è il caricamento. Perché c'è appunto la quarta missione. E vediamo un po'. Ma il prof non vuole. Qui abbiamo i pasticcini. E ora Ron li mangia ma rimane innamorato della prima cosa che vede. E' un po' innamorato di tutto. E chiede aiuto al prof. Lumacorno. Ok, qui dobbiamo aiutare praticamente Ron a guarire. Vediamo un po'. Però non mi ricordo esattamente qua quello che dovevamo fare. Vediamo un po'. No. Montiamo anche questo. Mi sa che dobbiamo preparare una pozione. Eccola qua infatti. Mi sembrava strano. Ok. Qua bisognerà montare qualcosa. Sì. Che cos'è? Un quadro. Bene. Qui dobbiamo usare il camino. Vediamo un po' quello che ci dà. Ah, ci dà un carbone. Non lo so cos'è. E mettiamo il primo ingrediente. Dopodiché abbiamo il secondo ingrediente che è la tazzina. E poi rimane la foglia. che non ho idea di dove sia. Spegniamo il fuoco. Vediamo se è qua. No, qua serve un gatto. Qui suoniamo il pianoforte. E qui abbiamo la foglia che andiamo a posare qui dentro. E ora prendiamo la bottiglietta ma che non deve bere Harry però. La beve. E la diamo a Raoli. Ed è momentaneamente guarito. E qui dobbiamo cercare il rimedio ancora una volta per poterlo guarire. Ok. No. Ok. Vediamo un po' l'armadio di Lumacorno. E prendo, giriamo un po'. Ma non troviamo niente. E qui va da mangiare. E qui va da mangiare. Ok. E qui vediamo che è stato Draco a dare la perché, se voi avete visto il film, veramente, veramente, quando poi è morto Silente è stata veramente una cosa terribile. E qui che vediamo il babagà, perché nel film era un uccellino, sì. Ok, vediamo Ron, in seguito da, vediamo che seguono Marfoy nei bagni. Eccoci qua, combattiamo contro Marfoy, Marfoy, mamma mia ragazzi. Quindi abbiamo usato prima il Gardium Leviosa, adesso abbiamo usato il Findo, adesso cosa dobbiamo usare? Aguamenti! È la prima volta che usiamo aguamenti in un combattimento. L'acqua con i fulmini, stupendo! Adesso, oh, bisogna usare concentrazione. Ok. L'abbiamo nettamente proprio battuto alla grande. E qui vediamo che si nasconde nel gabinetto. E ora noi dobbiamo cercare appunto di farlo uscire fuori. Riempendo qui l'acqua. Ok. Qui ci serve Ron con il suo gufo. No? Sì. Ok. Ok. E qui costruiamo una dinamite, se non ricordo male. Esatto. Che prendiamo... E mettiamo nel cesso. Nel water. E così sbuca fuori da tutte le altre l'esplosione e alla fine becca anche mal poi. Draco. Beccato. E qui, ancora che lo dobbiamo sfidare. Vai. Bene. Sconfitto. Cioè, una vita. Pausa. Dai. Diffindo. Ok. Ancora guamenti, eh. Ma no, ho usato... Reducto. Reducto. E ancora... Lingardium Leviosa. Mori, mori, mori. Oh. E qui legge l'incantesimo, se actu sembra, se non ricordo male. E qui l'incantesimo si chiamava... E qui che uccide quasi mal poi. E qui vediamo che Ginny scopre Il libro del Principe Mezzo Sangue E dice a Herli di metterlo via Allora ragazzi io direi di fermarci qui Perché se no si allunga troppo la missione E al prossimo video la finiremo Beh al prossimo video Ciao a tutti ragazzi